Quest'anno ce la giochiamo, è una partita un po' sofferta, tirata fino alla fine, siamo stati sotto, abbiamo recuperato, abbiamo sbagliato tanti tiri ma cercheremo di fare meglio per la semifinale. Sono state sempre sopra per tutta la partita, pensavamo di aver trovato il nostro equilibrio, peccato che non ce l'abbiamo fatta però cercheremo di mettercela tutta come questa partita perché vogliamo comunque ottenere dei buoni risultati in questa poppa.